Non essere scortesi in campo e aiutare chi ha bisogno. Ok, quindi essere lì? Amato! Il gioco corretto, una buona educazione nello sport e nel gioco. E nel gioco pulito il concetto è rispettare l'altro, diverso da me, che nel vostro caso è l'avversario, rispettare le regole, rispettare i coach, rispettare gli arbitri. Grazie a tutti!